5 a 0 penso poliera cabai a castelli numero svueta castello e napoli punti a 3 sauso un po po aranesci a fai un tuzuma su castello e me rago che stiene su napoli sapo di fuori del mera quanta squadra rispetto a su castello sgatti lo vedeci di scetti come ti doveva perdi a 20 anni su napoli e poi a dipingato a bussinara scetti una poli adesso a sapere sa partire in prima o poi invece se a rioffio va su barroso a riata a cavo mezz'ora e poi che non ha piccato a bussinara e avrà prima o di gusti e non ha piccato a 3 4 di bussinara e poi invece fai altra cosa poi non accadrà come è stata rotta non sarò più bregungia 5 a 0 e legge e legge aperto 5 a 0 con qualsiasi squadra è un su napoli poi praci per lo spago volo verdi 5 a 0 è andata icci ma non tocca la sinistraresci i te succedio poterci punti cosa sai che voti essi piccara solo posto di beli una delle scuola sa è il fatto che io so giocavo proprio pinci un trasa assas su napoli con sto caroli simproso cosa che non ho fatto che hanno vero subito di aderoso su sassuolo con su lievo non devo sosposto su questo lo sto caroli se uno dei gusti su e anna a giocao e a giocavo fare da bia tutto su che gusti sinalare su il pit su conto su che non fino fiera proprio sta ben irrati dove vero su che sui giochetto non è ancora pronto a gioca essa il suo campione della serie a ha fatta bia tutto saliseo che in canto si troverà quei spesi anche esatto sarà lì c'è questa boccia e questo napoli vira non fiera la cosa deve vai ai cia senza pensare superai senza rinnessi a si vota in questa boccia il sconcorda gioco se su napoli tutti più bravo sui ci punti in giro e tal non diventi giocai mai di sconcordata su gioco ogni volta che ho inti e anna ari invece dimostravo da essi ed essi tanto dato bravo da rinnessi la quota usa troverà dei mesi a nasi bui ride sconcorda gioco del suo napoli sto credo per giocare sui giochetto caduta giocare polita è certamente in gusto questo diretto del campionato uno dei gusti sui volenai con cosa in pluso teli 8 saggiana che nel suo mondo può aranesce a giocare mello su me la devo uso teatro su che pensata di essere già ribauso è che non rinasciti a giocare come tiri come ti d'epinto pensi di desi stramancauso altro da dentro del suo del suo gastetto naugusto autocra castiglia in antico che castiglia in alto e comprendi su gioco vivo lo fai non se uso una squadra che si vuole serrai a vetta e chi vede poi esatto su un po nato su a noi la squadra dopo prima a tentare dei buoni sasso boccia entro e poi usso dopo gioco in gusto caro risi incluso mentre sono fatto che ho fatto aliseo non ci viene a scetti anni in bruso con gioco pedro a centrocampo in mezzo su campo cv era a diretta cv era puro il puro faragò che è che prusso delle sere aranesce a spingi sa squadra in antisi e ci viene alico giannis che aveva velo e dimostrano di devo riesci giocatori chi chi balli di qualcosa può aranesce ma non manca a portare sa boccia in antisi certo in cui sa manca ne so ne so manca o meradeva noi si e su napoli in gusavati e brindara tutti i voti tutti i voti sa che chi è che è ruffio padovina per dio a boccia stata rotta non si sono disfunni se roso in pari gioca rossi che fanno tenendo questa partita vada del campo e a sapere in dei piccani o boccia 5 valori sede entro sarezza grazie a usainanti si è ci causo delle nocce tai a entra in treno su aliseo succedio di gando e bc1 e brindaro gosso e questa cosa non pragina mera genti devo penso che il suo primo aese in tribù lìa l'ho pezzo e taccini a castello prima ancora le dubbi giocai costo ormai non c'era vatti di chi venza che non può sarà più giocare a palloni e può bus 1 non era voli mai b a intro in campo voi brindaro su dei anni che nessuno c'era che vi ha risso a essi domanda o denti bersini e questa cosa è diventare un'altra cosa di gustosa che voglia di votare a murungiai ea fischiai contrasa a loppe soccando vado a ballare l'occa dove traballare e esso da più comprendi che i sargenti per i saggiani dei fischiai ea fischiai ea fischiai e dopo però si trova il rotto su questo da stetto di beveva del rotto certamente poi ciccari del vai mondo sono di messi di gusta brutta cosa che se uso bifendi in gustano suoi tenere una cosa di gustano scetti a quando devo andare da varie che hanno di nostro se uso cavallo sa basso ed è un su basso non di se lo sa ancora la rosa pizza e noi narra uso narra uso in un luogo e noi dove poi per di volo ma poi arrivo in dignità di cosa che è una squadra aumenta su napoli non si è riuscita a fai e può gusto gusto in ai che dopo sdra balla in mera ed ho preso bocchetto di ade bucciacca caro c'è bisogno da bocchetto di ade bucciacca e non si può pensare siete a guaraggiare